Se stai avendo difficoltà ad aprire così il gioco Tron & Liberty che è appena uscito, quindi in questo caso vai direttamente nella tua libreria, vai direttamente sul gioco Tron & Liberty ed eccolo qua, vai direttamente su questa rotella qua, proprietà, file installati, entriamo così nella sua cartella. In questo caso se è un problema dell'easy anti cheat ti consiglio di cancellare così questa cartella, vai direttamente in engine binaries 1.64 ed eccolo qua, crash bot client, cancella pure questi due file, torniamo un attimo indietro, vai sul gioco binaries 1.64 ed eccolo qua, cancella così il file tbb12.dll e open magedenoy, questo qua appunto dll. Una volta fatto chiudiamo così la cartella, una volta fatto quello che ti resta da fare, impostazioni, proprietà, file installati e facciamo così la verifica integrità dei file di gioco. 28 file non sono stati convalitati e verranno riscaricati, una volta fatto quello che devi fare. Chiudiamo un attimo qua, assicurati anche di aggiornare i driver per la tua scheda grafica, ovviamente io uso l'applicazione Nvidia app che ti ho lasciato in descrizione, la puoi scaricare nella versione beta e installarla per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia. Come puoi vedere sta anche facendo un aggiornamento in corso, proprio per il gioco Tron & Deliberty, quindi devi sempre rilasciare nuovi driver per i nuovi giochi. Vado su driver, ed eccolo qua. Questo era il problema, se non aggiorni i driver della tua scheda grafica il gioco potrebbe non partire. Quindi abbiamo scaricato e ora non ci resta che installare così il driver per la scheda grafica. Vai install e poi una volta fatto devi aggiornare il sistema. Se non si avvia, prova a riavviare Steam, quindi esci da Steam, riapri Steam e poi vai nella libreria e apri il gioco. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!